stanno facendo i giochi con l'ego una volta dai faglielo fare a lui che lui riesce lui c'ha la retsola e dopo fanno cadere quello di cemento cade una grossa parola cade lo zampi c'è la leva la leva l'avevamo nascosta sotto qua una l'avevamo messa sotto qua chi la trova ci vuole il seghetto lì c'è nessun altro ma mi sa che non è non è staccato neanche quello perché vedi che c'era l'ho detto che l'avevamo messo qua solo che è storto macchie adesso se si rompe di colpo vengo giù anch'io se vuoi ti butto giù anche questo eh pampi butto giù questo questo fai lì sul run non ce l'ho mi spiace ci vuole un segrettino passava dato un tocchino qua a te lo ha un altro ed entra anche lui nel cemento cazzo questo è il cetaro adesso viene giù anche il sasso fai una cosa fammi spostare la moto ma nooo spostare la moto sposti la legna brutta butti giù questa sasso che si incastra qua e per te no questo è più è un po' più lavorabile è un po' più lavorabile non è male che voi paracinocchio c'è arrivata una legnata sul ginocchio arriva hai visto come hai visto come è già diventato allerto mi è piaciuta la faccia che ha fatto hai visto subito cazzo altro che palle sei già sei già adattato tos pampi to anche questo Pietro se butto giù questo che facciamo prima guarda che va guarda che va dai che va dai che va è bastardo gotta butta l'eggi di occhio che butta il solegne mi fa male no no aspetta ce l'ho con lui questo è pericoloso pronti che arrivo? faccio Tarzan adesso Spampi prendimi in braccio Spampi dov'è Spampi? prendimi in braccio faccio Tarzan Pietro già fammi in braccia ma che fa tardi? ma che fa tardi? adesso butti in terra la ref sono la tua viene giù il Sambuco alza il tubo alza il tubo ma questa sonnetta la faccio subito che? sono sotto 50 metri come fai? ha il suo peso c'ha dietro tutta la roba devi scavarlo dietro se no non gira quello che ti vuoi ci voglio l'attrezzi e io li lascio in giro dopo però non mi dimentico dove li ho lasciati anche la cascatella che è un leverino della madonna avevo attaccato tubo a tirare col guinzaglio ha fatto ha visto che non veniva ha detto tac al 60 giorni si è messo a rispettare metti in archivio che poi quando facciamo la gettata sono tutti buoni ci trovi ancora facciamo due rampe dai grazie grazie grazie